1 allora ciao ragazzi io sono rovesh io sono pasquale io sono frullone e stiamo facendo questo video per chi vuole fare un video alla nostra boss Ludovica Villani che ora tra poco compie 18 anni eh? e vi presentiamo il nostro amico si chiama il nostro amico cavallo marisciato cavallo marisciato ribattezzato da frullone il nostro cavallo bruciato nostro po' che la vende Bruno Marzo e chissà tutti i giorni o poco no vabbè volevo fare un video perché comunque Ludovica anche se la conosciamo da poco comunque la vogliamo molto bene cioè è componente capi? è proprio la... è proprio il cuoricino capi? e no volevo fare pure anche questo nostro amico il nostro cavallo maresciato che voleva partecipare comunque anche lui alla festa e infatti noi vogliamo pure alcune domande inerenti apronte a Ludovica e poi magari se qua la festa si tenne i geni cos'è da cucchiare un mostaggio per te ora stiamo stati vedendo l'attività per Malaga si oh che noi siamo stati a Malaga no? allora noi l'abbiamo conosciuto da Malaga e tutto mazio allora voi spiega la nuova storia capito? troverai brutti visto la nuova mazio non è vero ero esito no vabbè comunque abbiamo un ciamato che noi per strada facevamo sempre stavamo stavendo a tirare la scuola e la para e trovo tutto il potere allora voi facciamo domanda a lui ehm 3 di Cavaluccio Marciallo ma tu c'è cosa ne pensi tu da lui che era una bella ragazza quanto giù ho sbagliato e poi altra domanda ancora e se per lì di partecipare a questa festa che ha raggiato Domingo la bellissima festa andallo ma vabbè e dovvi che Implice padre ma vabbè dovvi che ha fatto questo spero che questo video anche se è breve, è comunque una cosa piccolina ho un pensierino così spero che comunque ti sia piaciuto da parte mia e di frullone? ci mandiamo un bel bacino anche lui da romanzo un bel bacino allora frullone, salut aspetta bye 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 buon compleanno amore mie io vorrei chiesti 18 anni tuoi stasera festa più importante allora dovevi aver ascoltato questo pezzo molto tamarrecozzo che comunque o boss c'è mi sa di una bella canzone comunque fortifichi questo eletto no vabbè infine spero che ti sia piaciuto questo video e ti apriamo ancora i miei 18 anni che sono muti sì sono muti sono una volta quindi speriamo che tu li possa vivere al meglio e che ti possa divertire a volte a volte stacca a volte a volte a volte a volte un bacio boss da me un bacio ciao 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 ciao